Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi in A1 tra Calenzano e via 1 variante verso nord, in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretole, tra Prato Ovest e Il Vivo con la 1 tutto verso Firenze e in Fipiri tra la Strassigna e Firenze Scandici ancora una volta verso il capoluogo. Relativamente allo sciopero nazionale dei benzinai, sui nostri canali social trovate l'elenco dei distributori che garantiscono il servizio in Toscana. Siamo al traffico urbano di Firenze, tra i lavori in corso questa settimana segnaliamo quelli di asfaltatura di via del Massaio con chiusura da Viale Corsica a via del Ponte di Mezzo. Termine previsto dell'intervento 6 febbraio. Muoverse in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!